grazie a te giornalista quanto abbiamo bisogno del tuo compito del tuo lavoro spesso nascosto ma assai prezioso oggi in modo speciale siamo stati catapultati tutti quanti persino chi prima resti a passare dalla piazza reale a quella virtuale tutti sui social e tu ci vieni in aiuto ci metti per la strada ci devi stimolare a saper distinguere le notizie vere da quelle false le notizie buone da quelle cattive a non farci prendere dall'ansia dall'agitazione dalla confusione siamo nelle mani sì proprio così abbiamo bisogno allora del tuo aiuto e quello che tu fai è prezioso per noi perché ci permetti di riprendere fiato di guardare avanti e di aiutarci a vicenda gli uni con gli altri benedico il tuo lavoro e invoco la benedizione del signore perché quello che stai facendo va d'avvantaggio di tutti aiuti tutti a guardare la realtà in un modo più pacato e oggettivo e ci permetta di costruire insieme un domani migliore